Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto dal vostro Marco Pareti per RTN Radio. Siamo con la nostra rubrica andando a Zonzo, eventi in radio. Mi trovo a Santa Pollinare nel comune di Marciano in una località veramente carina, in un piccolo borgo qui tra le colline Umbre, tra Perugia appunto e Marciano. Veramente per arrivarci ci vorrebbe quasi una slitta, infatti il Babbo Natale che oggi abbiamo visto, che è qui con noi e che tra poco sentiremo, ci racconterà delle belle su come va a portare i regali ai bambini di queste località. Ma prima di arrivare al Babbo Natale abbiamo con noi Mirko Gaggia, il Presidente dell'Associazione Amici di Santa Pollinare, a cui diamo il benvenuto. Benvenuto Mirko. Buonasera. Allora, ci sono degli eventi dove Santa Pollinare è una comunità, diciamo non troppo grossa, non è esattamente una città con tantissimi abitanti. Quanti siete? Ma diciamo che in totale non arriviamo a 100, quindi è un piccolo borgo con alcuni casolari sparsi in campagna, nel comune di Marciano, vicino ad altri piccoli borghi, altri paesi tipo Spina, Mercatello, San Biagio. Bene, allora siete collocati in questo posto, tra le colline, che anche sia d'estate che d'inverno comunque tante persone vi vengono a ritrovare. In questo momento noi ci troviamo in un edificio adiacente alla chiesa di Santa Maria dell'Annunziata, appunto qui a Santa Pollinare, che tra l'altro in questo momento è chiusa, perché per un terremoto che è successo qualche anno fa è ancora considerata pericolante. Però è una chiesa molto bella, antica, mi dicevi del 1500 questa chiesa. Hai vissuto te quell'esperienza del terremoto? Sì, 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 ho vissuto sulla pelle... Niente, una grossa scossa di terremoto alle due, il pomeriggio insomma, che ha destabilizzato sicuramente molti edifici della zona, specialmente quelli un pochino più antichi. La ricostruzione è partita già da alcuni anni per le prime abitazioni, che è già stata completata, per le seconde è in fase di completamento, però per gli eventi di culto, chiese, queste cose è un pochino ancora indietro. Poi vi rivolgete a Spina, nel senso, voglio dire, se dovete come evento di culto questa chiesa è chiusa e quindi i fedeli o i credenti appunto prendono la Santa Messa appunto a Spina, che è la vostra parrocchia. Sì, noi facciamo parte della parrocchia San Nicola di Spina, insieme ad altri paesini qua intorno, come dicevamo, Mercatello e vari. Bene, allora, questo dico perché avete grande forza e comunque anche in queste situazioni avete trovato la forza da qualche tempo di organizzare degli eventi e delle manifestazioni, poi c'è stato anche il Covid che ovviamente ci ha messo del suo, quindi siete ripartiti quest'anno da questo evento proprio locale. Ce lo racconti come è venuta l'idea, quante volte l'avete fatto e per quale motivo? L'evento di Babbo Natale è nato proprio quest'anno, vedendoci qui una mesata fa circa proprio per cercare con i paesani di ravvivare un pochino il paese che vedevamo che si stava spingendo causa Coid, causa anche altre cose insomma e quindi è nata questa idea, dice per Natale cerchiamo di organizzare qualcosa e siamo andati sul Babbo Natale per bambini insomma, l'era dedicata ai bambini. Allora, questo è un evento che viene fatto, questo evento poi ce lo facciamo raccontare da Babbo Natale stesso come funziona, sicuramente entriamo proprio nel suo campo, abbiamo visto la slitta fuori parcheggiata, abbiamo visto i regali pronti, c'è la cassetta delle lettere, ma questo ce lo facciamo raccontare a lui come funziona. Andate Mirko, come appunto presente di questa associazione Amici, che non è l'unica associazione presente a Santa Polinare, ma ci racconti un po' di Santa Polinare e queste associazioni che ci stanno pur avendo meno di 100 abitanti. Sì, l'associazione nostra è nata alcuni anni fa proprio per promuovere un evento che abbiamo creato con cosa si chiama Castel Jazz, in musica jazz e a culinario perché abbiamo anche avuto la possibilità di promuovere prodotti del territorio nostro, da vini, oli, ortaggi, roba varia. E devo dire che siamo fortunati perché abbiamo un luogo con dei posti, un castello del 1200, un convento del 1000, cioè roba che magari tanta gente ce la invidia e quindi cerchiamo anche di far conoscere al di là della musica e del prodotto anche il luogo nostro a gente che magari non sa nemmeno che esista, Santa Polinare. Sì, allora per arrivare a Santa Polinare ci dai delle indicazioni che strade prendere? Se uno dovesse venire da Perugia per esempio o piuttosto da Marciano o piuttosto dalla zona del lago, quali sono le strade da prendere per arrivare fino a qua? Beh, da Perugia è semplicissimo, è collegato con la via Settevalli, che è una via lunga, che collega la stazione di Perugia per 15 chilometri e alla fine di questa via c'è proprio Santa Polinare, dopo un chilometro c'è Santa Polinare. Mentre venendo da Marciano siamo a metà nella strada che collega Marciano con il lago Trasimeno, quindi è un punto anche abbastanza nevralgico il nostro. Viceversa dal lago Trasimeno per raggiungerci è la strada che collega Marciano, Todi e via dicendo. E si trovano circa 15 chilometri? Sì, più o meno 15-20 chilometri l'ora. E quindi 20 minuti di macchina e uno sta qui, quindi abbastanza vicino. E ci sta queste belle colline molto naturali con un bel panorama e paesaggio. C'è anche un'altra associazione che fa parte di Santa Polinare. Sì, l'associazione che è ancora più antica degli amici di Santa Polinare, che si chiama i Reduci Combattenti, che è stata fondata tantissimi anni fa da proprio Reduci di guerra, della Seconda Guerra Mondiale, di cui faceva parte mio nonno, mio zio, che ora sono scomparsi. Però l'associazione continua a vivere, insomma, e a cercare di non far dimenticare quello che hanno passato e quello che hanno dato per la nazione e per il posto, per tutti i nostri antenati. Ecco, parlavi poc'anzi del Castle Jets, di questo evento che ha riscosso nel tempo... Quante edizioni sono state fatte i Castle Jets? Abbiamo fatto quattro edizioni. Ha riscosso un notevole successo. È una manifestazione che è partita in sordina, ma poi questo eco della bellezza e della bontà, della qualità anche degli ospiti e dei musici che venivano a suonare queste belle canzoni andando indietro un po' con il tempo, di Jets, ha trovato un bacino d'utenza vasto e quindi c'è stato un successo, un riscontro anche di pubblico. Vi siete poi fermati per motivi legati ovviamente a situazioni interne e piuttosto che al Covid. Però mi sembra di capire che avresti in animo di riprendere questo tipo di manifestazione. Questa manifestazione è nata un po' per la passione, un po' mia e di un altro consigliere dell'Associazione per la Musica Jazz. Poi è stata proprio sposata anche dai paesani perché naturalmente... Facciamo il nome dell'altro consigliere. Andrea Cavallucci. Andrea Cavallucci che sappiamo che è a Perugia e comunque lui si occupa di musica. Sì, lui si occupa di musica perché ha anche un'attività legata al mondo della musica. Certo, esatto. Il primo anno è nata così quasi per gioco proprio nel convento di Santa Pollinare. E' stato il primo anno abbastanza faticoso perché non avevamo né corrente niente. Quindi organizzare un evento del genere, facendo venire anche artisti forse il primo anno a livello regionale. Siamo basati su a livello regionale. Poi già dal secondo, il terzo, il quarto anno abbiamo puntato su artisti magari anche a livello sia nazionale che anche internazionale, musicisti venuti dagli Stati Uniti insomma. E quindi ha avuto un buon riscontro veramente a livello di pubblico e anche di qualità musicale, onestamente. Bene, in quale periodo viene fatta di solito questa manifestazione? Di solito viene fatta l'ultimo fine settimana di giugno. Ok, quindi cari amici di RTN Radio, teniamo in mente questa data appunto del Presidente dell'Associazione Amici di Santa Pollinare, Mirko Gaggia, perché può essere il prossimo appuntamento del 2022. Speriamo, speriamo. Del giugno 2022. E quindi veramente facciamo tanti auspici per la realizzazione di questa manifestazione. Mirko, prima di lasciarsi, c'è Santa Pollinare bello per il paesaggio, per la natura, per i boschi. Ci sono anche degli attrattori culturali monumentali interessanti, come dicevi Pocanzi, delle torri, dei castelli, delle pievi e anche delle chiese, che andrebbero maggiormente valorizzate anche rispetto ai paesi che sono qui intorno a Santa Pollinare stesso. Dal punto un viaggiatore, un turista che viene da queste parti ha però necessità di andare via con qualche ricordo, soprattutto di carattere enogastronomico. Quindi questo territorio come enogastronomia, quali sono le specialità e che cosa può offrire alla persona che viene da fuori e vuole portarsi via in memoria un pensiero, un ricordo, un assaggio che ha fatto qui con dei prodotti tipici, con dei piatti tipici? Beh, qui nel nostro territorio i prodotti specifici e migliori sicuramente andiamo sul vino e sull'olio, che è un territorio che si presta sia a livello di clima, di terreno, con una qualità di vino e di olio di alto livello. Poi però abbiamo anche delle piccole aziende agrarie che hanno proposto degli ortaggi di una certa qualità, tipo pomodori e roba varia insomma. Qual è il piatto tipico che tu ricordi e che mangi più volentieri? Io penso da Umbro forse la torta al testo con il prosciutto. Che viene fatto ovviamente qua. Che viene fatto qui, sì. Magari con il vino del luogo. Con il vino del luogo. Preferisci bianco o rosso? Io rosso. E tipo quale rosso? Ma qui nella nostra zona sono dei Merlot buonissimi. di Merlot, anche San Giovese, poi abbiamo anche altre piccole cantine che puntano su vini di qualità. Qui vicino a Spina sono delle cantine che hanno fatto un nebbiolo. Uno dice magari il nebbiolo è più del nord Italia. No, ma c'è una storia precisa. Invece c'è una storia precisa che il nebbiolo è venuto da qui. È venuto da qui insomma il nebbiolo. L'hanno portato su. Quindi questa cantina ha riproposto vitigno di nebbiolo e devo dire che il vino è di altissima qualità. Assolutamente. Allora, bene, quindi poi ovviamente ci sono i piatti di cacciagione, ci sono i piatti magari dei frutti del bosco, tipo funghi, tartuffi, cinghiale, quindi queste cose sono dei piatti tipici e le paste tirate a mano. Immagino, no? Quelle sì, fanno parte della cultura, penso Umbra un po' in generale. Mirko, per te è normale perché è consuetudio magari averla a casa. Per le persone magari che vengono qui a viaggiare e a trovarsi probabilmente è un'eccezione perché invece vanno a far spesa al supermercato. Sì, certo, perché magari noi siamo abituati perché io fortunatamente ancora ho la mamma, che può fare la pasta fatta in casa, magari è più facile trovare. Però ci sono anche degli agriturismi qui in zona che la producono. Ecco, perché se no avremmo dato un messaggio agli ascoltatori che ritiene radio, che magari venire tutti a casa tua a assaggiare la pasta. Invece possiamo anche dire... Sentiamo la mamma. Invece diamo un messaggio che ci sono degli agriturismi che hanno la possibilità di offrire questa cosa e loro sono... Producono pasta fatta in casa, anche cacciagione del luogo. Funghi, tartufe, roba varia. Allora, dimmi una cosa, perché un viaggiatore dovrebbe venire a visitare Santa Pollinare qui nel comune di Marsciano? Prima cosa che è la tranquillità e la serenità che dà un piccolo paese in un luogo del genere. Bene, allora ringraziamo Mirko Gaggia, appunto il Presidente dell'Associazione Amici di Santa Pollinare per questa sua testimonianza e a risentirci presto. Speriamo di vederci, anzi sono certo di rincontrarsi per Castelgex. Per Castelgex, speriamo. A giugno del 2022. Un augurio. Rimanete lì, amici, perché tra poco avremo Babbo Natale ai nostri microfoni e sentiremo che cosa ci racconta. Aspettate qua, eh, non me ne andate. Ecco, abbiamo introdotto adesso Babbo Natale con questa bellissima musica che ci ricorda appunto Mirko, ci vuoi dire? Vieni qua Mirko, per favore. Ci dissi chi è questo che cantava? Big Crosby. Ecco, appunto un famoso jazzista che ha lasciato veramente una testimonianza importante in una canzone di Natale per introdurre appunto il nostro Babbo Natale che è qua. Grazie Mirko, ok. Allora, Babbo Natale, che cosa significa fare Babbo Natale a Santa Pollinare, in comune di Marciano? Dove si porta dietro questo famosissimo evento di Castelgex? Diciamo che è un'esperienza nuova, però è fatta con impegno per valorizzare, come abbiamo forse detto prima, sia il territorio ma soprattutto per la gente che lavora qui e ci vive, per dare un input diverso ogni anno, ogni momento. Allora, Babbo Natale non dobbiamo dire il nome, rimane anonimo per tutti quanti. Come mai? Che cosa significa fare Babbo Natale in questa manifestazione che chiamiamo Babbo Natale a Santa Pollinare? Come funziona e come ha funzionato? Ma niente, ha funzionato come aveva detto prima il Presidente dell'Associazione, con l'inizio di un raggruppamento di persone, poi una ha fatto una cosa, una ha fatto un'altra, purtroppo Babbo Natale è anche una persona di muoli abbastanza corpulenta e guarda caso sono venuto fuori io come Babbo Natale, il che mi ha fatto anche piacere. A me mi verrebbe detto il nome ma non lo dico, faccio un po' fatica a Babbo Natale, devo dire chiamarti Babbo Natale su questa cosa perché hai già veramente un vestito che ci porta dentro l'atmosfera, ma che cosa succede? Cioè arriva qui un bambino, cosa fa questo bambino? Questo bambino come sono venuti stasera, innanzitutto molto timorosi di vedere Babbo Natale, questo grosso Babbo Natale, con questa barba bianca, con tutto un insieme di cose che giustamente C'è anche il coro, ho saputo, c'è anche il coro che ti fa Anche il coro ma non canta stasera Stasera il coro è silente Sì perché data la pioggia si sono ammollate le corde vocali Le ugole, ok Allora niente, vengono questi bambini, portano la letterina, molto timidi, molto spaventati Gli offriamo delle caramelle e poi chiediamo come sono stati durante il periodo dell'anno E poi ci salutano con i genitori Ma c'è stato mai un bambino che ha detto, io sono stato cattivo? No Tutti buoni? Tutti buoni E quindi caramella a tutti Caramella a tutti, indifferentemente Ma lo daremo anche se ci dicono che sono stati cattivi Ma certo, assolutamente sì Assolutamente sì Ma devo dire che è molto emozionante E io è la prima volta che lo faccio, lo faccio con passione Però uno si emoziona perché proprio vede questi bambini che arrivano timidi, spaventati Sembra che sei l'orco cattivo Invece stai qui per gioire un pochino tutti insieme Dato tutto il periodo che abbiamo avuto di restrittezze E lo rifaresti il prossimo anno? Sì, perché no? Ma senti, ma la slitta che sta fuori C'è anche il cagnolino che ha detto di sì La mascotte che ha detto di sì La mascotte del Babbo Nadal Esatto Ma la slitta che sta fuori Che ho visto c'è degli sci, con la meve, eccetera così Ma le renne chi le fa le renne? Per quest'anno la slitta sta ferma qui È la Stelti L'altro anno però vedremo Ci abbiamo un'arena però non credo che diri la slitta Come? Babbo Nadale stava riflettendo Adesso perché c'era un elfo che magari stava suggerendo una cosa Prego l'elfo, venga qua elfo Elfo vieni Venga elfo, venga Fammi da supporto Adesso adesso elfo vediamo qual era l'idea che aveva l'elfo Volevo solo dire che Babbo Natale ormai inizia a essere un po' stanco C'è una certa età e si è scordato che domenica prossima vengono gli asinelli a trainare la slitta Ma Babbo Natale è affaticato È affaticato C'è tanto lavoro da fare adesso L'elfo, uno delle mansioni dell'elfo è ricordare le cose a Babbo Natale, giusto? Sì, una delle tante Adesso poi sentiremo l'elfo Quindi ci sono gli asinelli di Babbo Natale prossimamente? Sì, 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 gli asinelli sono arrivati all'improvviso però arrivano, sono per strano Ok, allora, strabicini così Bene, questa organizzazione che si è stata fatta, molto carina Siamo qui all'interno della chiesa, anzi a fianco della chiesa di Santa Maria Annunziata Qui appunto all'interno di Santa Polinare, del centro abitato Era la chiesa principale E in questo luogo adiacente appunto alla struttura del culto Come è stata scelta? Per quale motivo si viene qua, in questa stanza? C'è stato qualcuno che vi ha messo a disposizione? Avete in qualche modo necessità di far riconoscere meglio questo Babbo Natale di Santa Polinare? E se vuoi fare un invito ai bimbi, alle mamme, ai padri, ai nonni Di venirti a trovare, dove devono venire? Babbo Natale? Perfetto, questa sala è stata messa a disposizione dalla chiesa parrocchiale Quindi è un locale che noi comunque sfruttiamo sempre durante E qualsiasi manifestazione si faccia a Santa Polinare Per quanto riguarda, Babbo Natale sarà qui sia domenica 12 che il 19 Quindi aspetta Parliamo di dicembre Di dicembre, certo Quindi aspettiamo tutti i bambini che vogliono possono venire Caramelle per tutti E forse, forse, adesso se il tempo ce lo permette Offriremo da bere anche ai genitori Bene, allora, bene, grazie Babbo Natale per questa cosa Mi raccomando gli asinelli non li stancare troppo No, no, tranquilli, noi lasciamo tranquilli Ok, quindi venite qui a Santa Polinare a conoscere Babbo Natale Tutti i bambini Tutti i bambini Tutti i bambini, perché i bambini sono tutti buoni, sono tutti belli Sì, caso mai sono i grandi, i bambini sono tutti buoni Ma benissimo Allora, grazie Babbo Natale di Santa Polinare E ci salutiamo con questa musica che stiamo per ascoltare Che ci ricorda sempre il periodo di Natalizia Quindi ciao Babbo Natale A presto, mi raccomando Non fa stancare troppo gli asinelli nel distribuire i toni Sono con Campanellino Detta anche Alessia Che in questa manifestazione di Babbo Natale a Santa Polinare La salutiamo e gli diamo il benvenuto Buonasera, buonasera Allora, Alessia, che cosa significa fare l'elfo con questo Babbo Natale un po' particolare? Beh, allora, è molto divertente diciamo E anche impegnativo perché c'è tanto lavoro da fare sotto le feste E i bambini hanno chiesto tanti giochi E quindi bisogna organizzarsi bene Per poterli accontentare tutti Ok, tu sei l'elfo durante questo periodo Ma fai qualcos'altro durante tutto l'anno Il resto dell'anno, sì Che cosa ti fai? Io studio Che cosa? Studio Ingegneria e di l'architettura a Perugia Ok, quindi per un giovane come te Che deve andare a Perugia Innanzitutto le opportunità di spostamento dei trasporti Qui da Santa Polinare Come sono? No, qui da Santa Polinare sono inesistenti Bisogna, io quando facevo il liceo Dovevamo andare a prendere il pullman a spina Quindi la mattina ci accompagnavano i genitori Prendevamo l'unico pullman che c'era E ritornavamo con l'unico pullman che c'era Quindi se lo perdevamo rimanevamo a Perugia E dopo adesso invece all'università come fai? Adesso con la macchina, la patente Quindi vado all'università da sola Allora tu hai quanti anni? 23 anni 23 anni Alessia Cosa significa vivere in un posto così delizioso Come Santa Polinare per un giovane di 20 anni? Per me è meraviglioso Come diceva prima Mirko La tranquillità e la pace che si trovano qui Non si trovano da nessuna parte Poi adesso siamo abituati a queste vite frenetiche Sempre tutti di corsa E stare qua significa anche fermarsi un attimo E respirare ecco Quali sono gli interessi adesso che tu studi? Se tu vuoi divertirti, uscire la sera Raccontaci un po' una giornata dei giovani di qua Allora diciamo che io sono abbastanza impegnata Perché suono con la banda di Spina Con un gruppetto jazz sempre qui di Spina Che strumento suoni? Allora con la banda di Spina il flauto Con la JG Band invece il flicorno Contralto E siamo un gruppo di ragazzi Ecco facciamo musica jazz Swing jazz insomma E quindi le sere diciamo che io personalmente le dedico alle prove Con questi gruppi Poi abbiamo anche un gruppo di majorette Che di solito Facciamo delle esibizioni sempre insieme alla banda Usciamo E diciamo che il mio tempo lo occupo così Poi se dovessi uscire Devo arrivare a Perugia Perché qui intorno Per i giovani purtroppo non ci sono molti locali O comunque luoghi dove passare il tempo Quindi tu vai Dunque per esempio Il gruppo di ragazze che suonate in jazz Dove è andata a suonare? Cosa fate? Allora Abbiamo In realtà dovevamo anche suonare stamattina Però il tempo non ce l'ha permesso Perché era un evento all'aperto Quindi Però andiamo a suonare Gli eventi in centro per esempio Nelle chiese In eventi organizzati principalmente Ok Qual è un messaggio che tu vuoi dare ai nostri ascoltatori Per quanto riguarda ai giovani E su Santa Polinare Qualsiasi sensazione o moccolare Che tu vuoi trasferire a chi ci sta ascoltando? Allora vorrei che Che le persone, i ragazzi Trovassero il tempo Diciamo il tempo per Dedicarsi un minuto di tranquillità E magari Ecco passare anche un pomeriggio Una mattina Qui a spasso Per Abbiamo anche il percorso verde Quindi A spasso Bene Bene Allora un invito a venire a Santa Polinare Sì certo Assolutamente sì Grazie allora Campanellino detta Alessia O Alessia detta Campanellino Che ne fa tante Soprattutto nel mondo della musica E in questo momento Hai invece la mansione dell'elfo Quindi venite qui a Santa Polinare Ti salutiamo Grazie Alessia Grazie a voi Grazie Alessia Allora per La rubrica Andando a Zonzo Eventi in radio Per RTN Radio Qui da Santa Polinare Con la manifestazione L'evento legato a Babbo Natale Ma veramente Un borgo delizioso Dove ci sono Delle piccole chicche Anche il territorio Se presta Volentieri A una visita Vi salutiamo E vi auguriamo Una buona giornata Grazie a tutti